Questo rapporto, stilato dal Congresso degli Stati Uniti, può spiegare come ha fatto l'esercito ucraino, sconfitto facilmente dai separatisti nel 2014, a essersi trasformato in una insuperabile macchina di difesa. Vi si legge che dal 2014 al febbraio 2022 gli Stati Uniti hanno speso più di 3 miliardi di euro per addestrare e armare l'esercito ucraino. Inoltre, dal 2015, istruttori americani hanno fornito formazione, tutoraggio e dottrina militare. Secondo il documento del Congresso americano, le spese militari di Washington in Ucraina sono quasi decubblicate dal 2015 al 2022, comprendendo armamenti e sistemi elettronici sempre più sofisticati. Fucili da cecchino, lanciarazzi anticarro, radar antiartiglieria, apparecchiature per la guerra elettronica, sistemi di analisi di immagini satellitari, sistemi di controllo aereo antidroni e sistemi di sorveglianza aerea. Poi ci sono i famosi Javelin e Stinger e anche elicotteri multiruolo. Così si esprimeva Jim Mattis, segretario alla difesa americano, a Kiev nel 2017. Ma l'integrazione tra forze ucraine e Nato va avanti da più di vent'anni. Nella base degli Avoriv, quella bombardata dai russi il 13 marzo, ogni anno si svolgevano le operazioni di addestramento Rapid Trident, dove personale Nato addestrava anche 6.000 militari alla volta a usare gli armamenti e le tattiche dell'alleanza. Questa è veramente un'integrazione delle dottrine Nato attraverso addestramenti mirati, attraverso procedure che appartengono agli eserciti alleati. Lo si vede anche nelle foto, negli equipaggiamenti. È difficile distinguere un soldato ucraino da un soldato occidentale. Tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 l'Ucraina ha ricevuto quantitativi enormi di armamenti e munizioni. Questo è un dato di fatto. Senza questo investimento e senza la fornitura di armi da parte degli Stati Uniti, probabilmente l'Ucraina sarebbe già caduta da settimane. Giovedì 24 c'è stato un vertice Nato in cui Zelensky ha potuto intervenire e avanzare nuove richieste di armamenti sempre più pesanti. Si parla di carri armati, si parla di missili antinave, si parla di droni con relativo supporto tecnico. È accettabile per la Russia che si invii questo materiale sul campo? No, semplicemente no. L'ha già dimostrato colpendo il campo di addestramento, probabilmente finanziato secondo quanto scritto da quel documento, a 25 km dal confine polacco. I paesi Nato sanno benissimo che la fornitura di armamento pesante costituirebbe un ulteriore inserimento nel conflitto, in modo ancora più massiccio rispetto a quello che sta avvenendo ora. Oltre alle tante armi, per i successi ucraini nel rispondere all'aggressione russa, sono decisive le informazioni, la cosiddetta intelligence, ovvero la capacità di sapere cosa fa l'avversario e quando. Stiamo parlando di informazioni tattiche, dunque che influiscono sull'andamento della guerra. Il movimento dei mezzi, catene logistiche di approvvigionamento, chi sta mandando cosa, quali mezzi sono schierati, quali forze sono in campo. Un vantaggio strategico a livello militare che non è assolutamente da sottovalutare. Nel momento in cui io, dal mio drone, concedo all'Ucraina di sapere in quel preciso momento che cosa sta succedendo sul terreno. Fondamentalmente quindi gli sto concedendo di usare il mio drone? Sostanzialmente sì. Gli sto dando un vantaggio enorme sul terreno. Se questa intelligence è così determinante, qual è il limite allora, la linea oltre il cui possiamo considerarci parte belligerante? A mio avviso questo limite è già stato superato abbondantemente. Anche il fornire informazioni sensibili sulla conduzione della guerra, quello ci rende stati belligeranti. Ci vogliamo nascondere un po' dietro un dito. Il vertice nato di giovedì 24 marzo si è concluso con la promessa di invio di armi sempre più sofisticati all'Ucraina. Parliamo di droni e sistemi antiaerei e di un nuovo pacchetto di sanzioni. Ma il presidente ucraino Zelenskyy aveva chiesto molto di più. Aerei, missili e persino carri armati. Non per ilboro Noado. Presidente, il suo progetto deiUNI, c'è una voce di sanzioni, che è necessà di sanzioni, perché non ci sono le progetto sui. Anche le progetto di un po' dietro il mondo, il nostro progetto di un po' dietro di sosteggi. Il mondo non le progetto di un po' dietro di un po' dietro. Sanzi, direi, la terapia sono disegname. Ludi una polta, direi un po' dietro di un po' dietro da la guerra. Ludi una polta, direi, si è iniziata a Shadda si è andata di un po' dietro. Camerà non è interagino. Le dichiarazioni del presidente americano Biden degli ultimi giorni, però, non solo fanno pensare che la Nato non abbia paura delle reazioni di Mosca, ma che gli stessi obiettivi dell'alleanza siano cambiati. Anche se il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha poi corretto il tiro negando che ci sia una strategia americana per un cambio di regime a Mosca, a sentire le parole di Biden sembra che per la Nato l'idea di una Russia ancora guidata da Putin non sia più accettabile. Questo però trasformerebbe completamente il senso e le dimensioni del conflitto, facendolo diventare una guerra per procura dove si scontrano Russia contro USA e Nato. Ha molte di queste caratteristiche, perché l'Ucraina sta diventando in qualche modo un nostro proxy nella battaglia di contenimento della federazione russa e probabilmente anche uno strumento per provare a provocare una crisi politica a Mosca e magari per venire alla sostituzione del suo presidente. A spingere nella direzione dell'accentuazione della pressione sono i polacchi sicuramente, i baltici, le tre repubbliche baltiche. La Gran Bretagna, come gli Stati Uniti, sta sviluppando una politica fortemente antirussa. Qual è la linea rossa però? La mia impressione è che noi in realtà stiamo sondando volta per volta dove si trovi questa soglia e mano a mano la spostiamo sempre più avanti in reazione alle richieste che vengono da Zelensky. Noi abbiamo confermato al vertice della Nato che forniremo agli ucraini ancora armi anticarro, armi antiaeree e dei droni. Ma la novità di questa volta è che assieme ai droni forniremo anche dei tecnici che verosimilmente addestreranno gli ucraini ad utilizzarle, queste armi nuove. E allora il punto qual è? Capire se i russi considereranno i tecnici che seguiranno le nostre forniture di droni e quant'altro come parti belligeranti ed emanazione dell'organizzazione. In realtà il confine è molto sottile, siamo in un terreno di grandissima ambiguità. In tutta questa guerra l'ambiguità la fa da padrona. Questa linea rossa, oltre al fatto che nessuno sa dov'è, è anche mobile. Nel senso che quello che oggi è tollerato dai russi potrebbe non esserlo domani se dovesse cambiare la situazione sul campo? Evidentemente, a maggior misura che i russi si indeboliscono sul terreno e già in questo momento si trovano in una situazione non ottimale. È chiaro che il rischio che questa linea rossa si sposti ma in una direzione a noi sfavorevole esista.